Un saluto come state, il mercato di gennaio si avvicina e ci sono già intescrizioni molto molto importanti. Vi ricordo come sempre di iscrivervi sul logo AL, di lasciare un bel like e commentare numerosi così che condividiamo il punto di vista. Video rapido, un paio di minutini come sempre, questo è il format su questo canale di Flash News. Attenzione perché la situazione particolare legata alla Juventus per la nota inchiesta potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato. Attenzione soprattutto a Vlaovic per due motivi, perché se lui dovesse essere escluso dalla Champions avrebbe un contracolpo importante e Vlaovic e i big potrebbero chiedere l'accessione. Dall'altra parte, attenzione perché, come detto in comunicato, Allegri in questo momento ha ancora più poteri e Allegri con Vlaovic non ha esattamente legato. Ebbene, la notizia arriva dall'Inghilterra, secondo cui l'Arsenal sarebbe piombato su Dusan Vlaovic e studierebbe l'operazione con una Juventus che di fronte ad un'offerta importante non direbbe no. Ovviamente un'offerta che non dovrebbe portare a minusvalenza avendo pagato Vlaovic 80 milioni di euro. Non è l'attaccante, su questo abbiamo relazioni di primissima mano, non è l'attaccante preferito di Allegri. Non è l'attaccante ideale e quindi Allegri potrebbe fare un'operazione di questo tipo, cedere il giocatore e andare su altri profili. Detto che, tra l'altro, l'Arsenal è scatenato e vuole prendere anche Milinkovic e Savic, giocatore già in orbita a Juventus, che però, visti i recenti eventi, probabilmente rischia di sfumare. Ditemi che cosa ne pensate, qualsiasi squadra voi ti fiate. Vlaovic, se si sposta non credo proprio in Serie A, qualcuno l'ha accostato anche erroneamente al Milan, se si sposta probabilmente va in Premier League. e la Juve fa un affare oppure no, secondo me è un giocatore fortissimo. Ho la sensazione che con Allegri, il gioco di Allegri, lui ci azzecchi poco o nulla. Ditemi che cosa ne pensate, commentate i numerosi qui sotto, lasciate un like e mi raccomando iscrivetevi se non avete ancora fatto, qualsiasi squadra voi ti fiate. Un abbraccio a tutti.